La Plage Noir Resort Oltre 50.000 presenze nell'estate 2014 Le grandi emozioni di vivere nel villaggio più entusiasmante del nord Sardegna Un mare meraviglioso con la sua spiaggia e la particolarità della sabbia Nello splendore della Sardegna I grandi servizi offerti dal villaggio La piscina, l'anfiteatro, i campi da tennis, calcetto, la piazzetta e i suoi negozi E la grande professionalità di tutto lo staff Una vacanza fantastica La Plage Noir Hotel Resort Marina di Sorso Sardegna Plage Noir Resort La differenza